Porco il lama Perché abbiamo uno per ogni mappa Quindi da stasera vi porterò appunto questo qua Che è sulla mappa verge Poi domani knockout e così via Vediamo ragazzi per questi 4 giorni Vediamo tutte quante le nuove mappe ragazzi Perché mi è stata data l'incredibile opportunità Di andare a Londra in esclusiva Per provare questo nuovo DLC Eravamo io, Ron e Gabbo Ragazzi può essere anche una boiata Però al di là del fatto che il gameplay Comunque lo state già vedendo Contate che erano le prime partite che facevo È stata la prima e la seconda partita mi pare Eravamo in LAN, giocavamo in LAN Quindi bisognava un pochino abituarsi A tutto in generale Però parlerò comunque adesso nel resto del video Ovviamente della mappa Di questa mappa in particolare Che ripeto è verge Che sarebbe una sorta di remake Di una mappa vecchia di Call of Duty World at War Che era presente in un DLC Comunque ragazzi Ripeto voglio sprecare i primi minuti Per ringraziare tutti Perché per quanto possa sembrare una cosa stupida Io non ero mai stato invitato A nessuno di questi eventi E dato che ho un canale dal 2008 Faccio solo video di Call of Duty Dico È stato Non dico un traguardo Perché ogni volta Mi sembra brutto buttarla così Sui traguardi O queste cose qua Però davvero È una cosa che mi ha fatto Immenso piacere Perché sapete Ho iniziato come molti di voi A giocare a Call of Duty A 13 anni Ho giocato a Call of Duty 4 È pensare che adesso Il gioco al quale io giocavo Su quale spendevo i miei pomeriggi Sono arrivato a chiedere di me Per farmi provare in anteprima qualcosa È una cosa unica Dico Cioè non parlo di emozioni per carità raga Ma dico obiettivamente Per me È la più grande soddisfazione Che io possa aver ricevuto Da YouTube E che possa probabilmente mai ricevere Perché ragazzi Davvero Sono stato contentissimo di questa cosa Spero che in futuro Ci sia la possibilità Per carità Di partecipare anche ad altri eventi Ma vi assicuro Che già questo mi basta e avanza Sono già contentissimo così Infatti non so come ringraziarvi Molti di voi avranno visto Che abbiamo messo le foto Anche su Instagram Facebook Assieme agli altri E niente Quindi se ci avete visto a Londra Appunto Era per questo evento Altra cosa divertente È che stavamo giocando Contro altri YouTuber O comunque giocatori Di Call of Duty europei Tra i quali anche Aliei Aliei lo riconoscerete Perché il nome in gioco Quando apro qualche volta La scoreboard Scusate La scoreboard Si chiama Zeus Perché ci hanno fatto Delle Playstation Con dei nomi Degli dei Così Cioè Ogni persona aveva Un nome random Io mi chiamavo Ares Ragazzi Ero Un cane da guerra Arrabbiato No ragazzi Non ho inteso Nessuna bestemmia In questo cane da guerra Lo sapete Perché io dico Sempre cane da andaggio Comunque per carità Ero Ares Gasatissimo Infatti la cosa più figa Ragazzi Sarà il gameplay di domani Su Knockout Che era la nostra Prima partita Su Knockout E ho fatto 50 kill In postazione Però la cosa divertente È che Allo scorso evento Al quale io ero presente Ma c'erano sempre Ron e Gabbo All'EA quasi impediva Agli altri di registrare Perché urlava così tanto Che non uscivano a registrare Allora mentre oggi Tutti quanti gli altri Ragazzi europei Giocatori e youtuber europei Sono andati Allì a Londra Semplicemente per divertirsi Per stare assieme Per vedere il DLC Io, Gabbo e Ron Siamo andati solo proprio Di cattiveria Per non far fare Gameplay ad Alliei Praticamente Per vendicarci Dell'ultima volta Di ciò che era accaduto E quindi Voi Adesso per carità In questo gameplay Non potete vederlo Perché sono tipo Due parite mischiate queste Però dovevate vedere Che ogni volta Che abitava contro di noi Andava in negativo Allora cambiava squadra E veniva da noi Era È stato fantastico Non urlava tanto Non si faceva tanto il forte Non Non aveva motivo Per fortuna Però Ecco un'altra cosa Che comunque è bravino Per carità Per quando veniva in squadra con noi Pur tralasciando il fatto Che comunque Camperasse A fondo mappa O ai lati della mappa Con un fucile d'assalto E usasse poi Il talon guidato per la mappa Per fare le kill Però c'è un'ontoglia Che comunque fosse abbastanza Bravino Ecco diciamo che Pensavo fosse un poco più scarso Poi c'erano un paio di giocatori forti Perché Allora ragazzi Io non Non so riconoscere le facce Dei pro player Come dei player O dei youtuber stranieri Però c'era Un francese Che non era Gotaga Un francese abbastanza forte Che su una mappa Era con un Manowar E devastava a tutti Perché ripeto In LAN È bestiale Così come il WMP È molto forte Però c'è anche da dire Che in LAN Bisogna un attimo Abituarsi al gioco Perché Ovviamente è pur sempre Un Call of Duty Ma cambia leggermente Comunque ragazzi Personalmente Verge A livello di gameplay Penso sia la mappa Che mi è piaciuta più Perché sapete Anche nello scorso di LC Non c'era una mappa Che mi avesse colpito Più di tanto Anzi Però in questo qua Invece mi hanno colpito Knockout E Verge Appunto Knockout Quello che vedrete domani E Verge È questa Perché in queste modalità Quasi possono fare Tante kill Bay gameplay Poi è abbastanza bella Anche come mappa Non siamo i livelli grafici Di splash Però Diciamo che non mi ha deluso Poi come sapete In Call of Duty Ogni mappa È disposta in maniera tale Che ci siano tre vie D'accesso Cioè avete Destra Sinistra E centro Qua sulla parte di destra Dove sto attaccando adesso Vedete che Ci sono delle sorte Di tunnel scavati Là dentro la roccia Dai quali poi si può sbucare Pure sott'acqua Quindi Ci sono infinite possibilità E mi piace questa cosa qua Perché ad esempio appunto Anche passando alla destra Poi si può sbucare Da tre parti diverse Quindi dico Vengono date Queste possibilità Secondo me è sempre Bello e intelligente Perché Offre più possibilità Tattiche Per quanto queste mappe Non verranno Probabilmente mai Introdotte All'interno Del competitive Delle modalità competitive Però è una cosa Molto carina Mentre ad esempio Però per quanto riguarda Le competitive Per quanto riguarda Il cerchio e distruggi Perlomeno Visto che una mappa Molto bella Sarà invece Spire Che vi farò vedere Appunto dopo domani Perché là c'è Per come sono disposti Gli obiettivi All'interno della mappa Penso che si potrebbe Fare qualcosa di carino Anche qualche partita Divertente In cerchio e distruggi Comunque ragazzi Il video sta per terminare Spero che Vi possa piacere Questa Quest'anteprima Queste anteprime Perché Ripeto Penso sia bello Poter vedere Il gioco Le mappe Qualche giorno prima Per quanto poi Ci voglia soltanto Due partitelle Per abituarsi A giocarle Però Penso sia bello Scoprire un attimo Un poco Come Cosa ci si può fare Bene ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo domani Con il prossimo E porco l'ama a tutti Ciao ciao Ron è sexy Porco l'ama E porco l'ama a tutti